L'autovelox a Vallo della Lucania non ha mai funzionato. A denunciarlo è stato il consigliere di minoranza dei 5 Stelle Pietro Miraldi dopo quanto avvenuto giovedì durante il consiglio comunale vallese in cui è stato approvato il bilancio. Nel corso dell'assise Miraldi aveva voluto che si facesse chiarezza su alcuni dati presenti sui documenti contabili e relativi all'apparecchio che rileva la velocità installato l'anno scorso sulla Cilentana tra gli svincoli di Pattano e Vallo. Per questo aveva interrogato la maggioranza. In particolare aveva chiesto perché nel bilancio preventivo era stata prevista come incasso derivante dall'autovelox la somma di 1.200.000 euro e poi nel documento di quest'anno invece era stata iscritta una somma più contenuta di 250.000 euro. La risposta che ho ricevuto ieri ha detto Pietro Miraldi annunciandola anche sui social è che l'autovelox non è mai entrato in funzione, una cosa che a me era chiara da tempo. Il consigliere infatti sin da subito si era opposto all'apparecchio chiedendo chiarimenti sul perché fosse stato innalzato in quel tratto il limite di velocità da 60 a 80 chilometri orari pur non essendoci le condizioni strutturali e funzionali dell'arteria e non essendo intervenuti sulla stessa. La somma iscritta a bilancio quest'anno ha detto ancora Miraldi è da riferirsi all'autovelox mobile visto che già l'anno scorso ha sanzionato gli automobilisti per circa 120.000 euro.